Più che pacchetti, esperienze. Più che vacanze, emozioni. Il nuovo corso del turismo in Abruzzo è attivo. Insomma, le cose, invece che guardarle, le fai. Ed è a questo particolare settore in decisa espansione che è dedicata la manifestazione Abruzzo Attrattivo 2021, realizzata anche con il contributo della Camera di Commercio Chieti Pescara. L'iniziativa, promossa da Confesercenti con Federpate, si terrà nel Museo delle Genti d'Abruzzo a partire dal 25 novembre. Nel 2021 abbiamo registrato un più 22% rispetto al 2020, che comunque rispetto alla media nazionale già era un numero abbastanza grande. Questo significa e vuol dire che l'Abruzzo è una terra che si presta al turismo esperenziale, a quello outdoor, quello che una volta veniva chiamato turismo attivo. D'altronde siamo una regione con il 37% del proprio territorio tutelato attraverso parchi, riserve e quant'altro. E quindi quello che noi possiamo offrire è questa emozione, vivendola attraverso dei professionisti che in qualche modo mettono in contatto il turista con l'esperienza emozionale che appunto questa terra può dare. Sempre di più questa regione si sta collocando nei posti attrattivi, no? In quelle che sono le classifiche nazionali e internazionali come una destinazione dove poter vivere un soggiorno, ma soprattutto delle esperienze dal mare alla montagna, al Gran Sasso alla Maiella. E quindi Abruzzo Attrattivo si colloca come il primo ed unico evento interamente dedicato al turismo attivo ed esperienziale. Grande successo, giovedì per il debutto, per la prima giornata saremo 130, di cui 80 operatori abruzzesi. Ci sono ancora possibilità di unirsi ai più grandi operatori turistici d'Abruzzo e siamo molto felici di questo successo. Il primo pomeriggio ci saranno proprio dei tavoli di lavoro dove da quei tavoli di lavoro uscirà un documento che presenteremo il pomeriggio successivo all'assessore al turismo e poi ai presidenti dei parchi e alle camere di commercio perché l'obiettivo è quello di ricominciare a parlare, dopo diciamo dieci anni di silenzio sul turismo, ricominciare a parlare dell'Abruzzo, delle opportunità che vorremmo che si mettessero in piedi da quei prossimi anni. L'obiettivo è quello, oltre che l'incrocio domanda offerta alla conoscenza degli operatori, vogliamo riparlare di turismo e lo faremo con un documento. Grazie.